Ciao, coccinelle, pesciolini, gattini, scoiattoli e orsetti! Siamo le vostre maestre e vi salutiamo con una filastrocca inventata per voi! La scuola è chiusa, non si può entrare. Tutti a casa dobbiamo restare. Ma le buone abitudini non si devono scordare. Ritiriamo bene i pennarelli, mettiamo bene i tappi, prima di iniziare un nuovo disegno finiamo quello vecchio. Se ci fermiamo per colorare, ricordiamoci di ben impugnare. Pollice di qua, indice di là. Il pennarello in mezzo sta. Da sotto, il medio ci lascia appoggiare, perché la mano non si debba stancare. Ciao a tutti! A presto!